Lui è il governatore della regione Veneto, anzi il presidente governatore, insomma, neologismo che io ogni tanto uso perché sì, perché sono comunque delle figure molto rappresentative sul territorio, che hanno acquistato soprattutto durante la pandemia una forza importantissima, sono stati i nostri punti di riferimento, è Luca Zaia, è in libreria, con questo ragioniamoci sopra, è il nostro ospite per parlare un po' del personale, un po' della pandemia, un po' di quello che ci verrà in mente. Luca Zaia! Benvenuto, dopo tante volte che ci siamo visti collegati. Grazie. Abbiamo, l'accogliamo con questa bella musica di un grande italiano, che è quella che poi... Si può ancora dire? Complimenti per la trasmissione. Grazie, ma si può dire, anzi se lo dice ci fa molto piacere, visto che il noi è duopo sempre quando si lavora con un gran bel gruppo come il nostro. E noi abbiamo messo a volare perché, lo ricorda anche lei nel suo libro, durante la primissima ondata, all'inizio quando ci sembrava che tutto fosse superabile, cantavamo dai balconi e cantavamo volare. Lei questa canzone l'ascoltava, da allora dice ho smesso di dormire perché mi sembra di capire, è una cosa che mi ha colpito già un'altra volta che ci siamo sentiti, visti, insomma, televisivamente. Dormi due o tre ore a notte? Sì, dormo poco, sì. Due o tre ore? E l'ho scritto, certo, l'ho letto. Ma dagli anni dell'università, ovviamente, il tutto è peggiorato con questo incubo che è Covid, anche perché noi lo viviamo quotidianamente, siamo in real time e quindi viviamo questa tragedia che stiamo accompagnando. Ecco, al momento lei come valuta l'incremento dei contagi che esiste, anche se è inferiore a quello che vediamo, non so, in Germania, dove sappiamo che, insomma, in alcune zone della Germania arrivano i malati da noi, loro accolsero i nostri malati durante la prima ondata, ora siamo noi, diciamo così, ad accogliere i loro perché hanno le terapie intensive piene. Ma mi lasci dire una cosa, innanzitutto, nella primavera, quindi nel febbraio-marzo del 2020, siamo stati letteralmente massacrati da questi messaggi, nella comunicazione dove si diceva la Germania ha capito tutto, in Italia non si è capito nulla della sanità. Il risultato finale di 20 mesi è che l'Italia si è evitata più o meno 5 mesi di lockdown, la Germania se li ha fatti in più riprese. Oggi la Germania è in grossa difficoltà, la vera discriminante è rappresentata dal fatto che noi abbiamo più vaccinati rispetto ad altri paesi che sono in difficoltà. Ho visto i dati, soprattutto, dei paesi del centro Europa che sono assolutamente allarmanti e sono i paesi che hanno più difficoltà, Germania compresa. Ecco, adesso questo super green pass, come sarà? Mi sembra di capire che ci saranno... domani si varieranno le nuove misure, no? Leggevo adesso sulle agenzie... È probabile, adesso il governo... Domani cabina di regia e CDM per le nuove misure. Super green pass, lo ricordo io così mi corregge se sbaglio, dovrebbe essere limitato... Cioè i non vaccinati non avrebbero accesso ad altri luoghi che non siano luoghi di lavoro, per capirci. E per tutti gli altri il green pass, per i luoghi ricreativi, per non chiudere teatri, ristoranti, cinema, eccetera, bisognerà accedere col green pass e sarà dato soltanto ai vaccinati. È una cosa che voi governatori, voi presidenti di regione, avete propugnato e non ho ancora capito, però se deve valere, mi dica lei, cosa ne pensa, in zona arancione, in zona gialla o addirittura in zona bianca, la zona rossa neanche gliela nomino perché non voglio nemmeno pensarci. Ma guardi, intanto lei fa bene a utilizzare un condizionale, dovrebbe, nel senso che in questo momento non è dato a sapere quale sarà la decisione del governo e quindi il governo immagina che nelle prossime ore presenterà una bozza o una proposta di decreto. E certo è che noi dobbiamo intervenire, sappiamo con certezza che oggi, le do i dati del Veneto così faccio un esempio concreto, noi in questo momento abbiamo, nelle ultime 24 ore, 1642 contagiati, abbiamo poco più di 400 persone ricoverate e una settantina in terapia intensiva. Nelle terapie intensive abbiamo l'80% di persone non vaccinate. La tragedia che stiamo vivendo in queste ore di quella signora che è incinta, è il quinto mese, che è ricoverata al Borgo Roma di Verona e che ovviamente in terapia intensiva è in grosse difficoltà. È una persona che era Novax e quindi va in questa direzione. Ovvio che adesso attendiamo la proposta, escluderei la zona bianca perché la zona bianca resterà quella che è. Immagino che dalla zona gialla ci siano le prime restrizioni. Dopodiché lei dice bene, non parliamo di zona rossa, perché la zona rossa vuol dire avere il 30% di terapie intensive occupate, vuol dire avere un'incidenza molto altra di contagiati su 100.000 abitanti a settimana, quindi è uno scenario nel quale comunque si fa difficoltà anche a aprire un ospedale. Secondo lei quindi questo Green Pass rafforzato, è la sua opinione? Poi magari il governo deciderà... Ma se andrei in questa direzione. Dovrebbe partire quindi dalla zona gialla o dalla zona arancione? Qual è la sua opinione? Guardi, io immagino che la vera sfida sarà quella comunque di ragionare sulla zona arancione. Dopodiché ricordo che la zona gialla sostanzialmente prevede quattro posti nei ristoranti al tavolo, l'uso della mascherina all'aperto, il tema della riduzione del 50% in cinema e teatri, nel coefficiente di riempimento e ovviamente anche per i mezzi di trasporto. Quindi immagino che la zona gialla verrà applicata a tutti, però dico immagino perché non so quali saranno... C'ha il Green Pass rafforzato già in zona gialla secondo lei? Non glielo so dire perché noi ieri abbiamo discusso approfonditamente con il governo, però adesso stiamo attendendo la proposta. I giornali dicono che ieri lei e Fontana, il presidente della regione Lombardia, avete incontrato Salvini e che lo avete convinto a non opporsi a queste nuove restrizioni. È così? No, non è così. Non c'è stata nessuna necessità di convincere Salvini. Peraltro abbiamo parlato di molte altre cose, tra le quali devo dire un argomento principale che è quello dell'autonomia del progetto che il Veneto ha fatto partire per primo, poi seguito dalla Lombardia, eccetera. No, no, non c'è stata nessuna opera di convincimento. No, perché lui è sempre stato un po' contrario alle nuove restrizioni, lo diceva, insomma. No, diciamo che giustamente la preoccupazione di tutti è quella di non chiudere e di fare in modo di venire fuori da questa tragedia. La luce in fondo al tunnel la si vede, però ovviamente mi lasci fare un appello ai cittadini, siamo in un regime di volontarietà vaccinale, lei conosce la mia posizione, che è quella di dire no all'obbligatorietà, però dico anche valutate fino in fondo di andare a vaccinarvi. Soprattutto un appello a chi ha fatto la seconda dose di fare, trascorsi i cinque mesi, ovviamente la terza dose, il famoso booster, perché i dati scientifici ci dicono che l'impennata di anticorpi e quindi la risposta anticorpale è una risposta importante. Allora, ovviamente nello scrivere il libro e nel raccontare quei primi giorni, perché poi ricordiamolo che il primo morto era un signore veneto, di voi Euganeo, fa appello, oltre a ricordare quei giorni, anche a citare una frase che io cito spesso nel nuovo piccolissimo ovviamente, che è una frase di De Gaulle, che dice, prendete nota, è meglio prendere delle decisioni imperfette che essere alla continua ricerca di decisioni perfette che forse non arriveranno mai. Ecco, immagino che però, e lei lo racconta, sia stata molto forte la paura di sbagliare e forse anche talvolta la disperazione, l'ha mai provata la disperazione? Beh, assolutamente sì, guardi, lei citava all'inizio, Memo Remigi faceva appunto sentire il volare, no? Che saluto. Memo star da sempre. Una star. Buongiorno presidente. Tu non sei veneto, Memo, non ti rivendere per veneto adesso. No, 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 io ci tenevo a dire che mio padre è di Zuliano. Memo ha sempre un libro, ha sempre un libro, ha sempre un libro, ha sempre un libro. Lui ha sempre un grado di separazione, grande. Come si chiamava papà? Ercole, papà, Ercole di Zuliano. Va bene. Ciao papà. Giusto, ciao papà Ercole. Prego. No, dicevo che quel volare che abbiamo sentito tutti dai terrazzini, da brivido, ha rappresentato la prima fase, che è stata quella che tutti avevamo paura di morire, tutti avevamo l'incubo dell'ammalarsi, poi cosa che pian piano ha avuto un'evoluzione e ci ha portato ad avere dei movimenti contro la vaccinazione, dei movimenti, diciamolo fino in fondo, anche negazionisti, no? C'è chi sostiene che il Covid non esista, c'è chi sostiene... Complotto, 5 milioni di morti. C'è chi sostiene addirittura che sia semplicemente un'influenza che ti curi a casa, quindi sembra quasi tutta una mega strategia il fatto di utilizzare gli ospedali. Questi lo sostengono, poi c'è un Presidente di Regione che però si trova a dover fronteggiare le terapie intensive. Qual è un episodio che ricorda più di altri, un momento più cupo? Intanto non avevamo, lo scrivo nel libro, le istruzioni per l'uso. Vorrei dire per inciso che questo non è un libro che parla di Covid, ma approfitta della storia del Covid per parlare di questo che è un Big Bang della storia, e quindi tutti i cambiamenti che il Covid porta nella nostra società. Però la vera sfida è stata quella di non avere le istruzioni per l'uso e di, ad esempio, capire fin dall'inizio che la terapia intensiva, che per me era abbastanza sconosciuta come realtà, diventa centrale nella cura di quel 5% dei malati che devono andare in ospedale, alcuni dei quali finiscono in terapia intensiva. Noi avevamo solo 364 terapie intensive, oggi ne abbiamo un migliaio, e abbiamo dovuto allestire velocemente le terapie intensive. Quindi qual è stato il momento più tragico? Vedere i nostri anestesisti che hanno dovuto stilare un regolamento, una sorta di codice etico, sulla presa in carico del paziente, dando le priorità ai pazienti da prendere in carico nell'eventualità di una... Fare una scelta, chi salvo, chi faccio morire. È così però è stato? Purtroppo è stato così. Non siamo arrivati a quel punto, ma si sono dati un regolamento, hanno adottato delle linee guida internazionali, e lì ti viene l'ansia pensare che tu puoi essere responsabile della perdita di vita di qualcuno, che magari dici non sono riuscito a comprare una terapia intensiva. Noi siamo andati a comprarci un cambio di respiratore in Svizzera, abbiamo fatto il diavolo a 4 per recuperare i respiratori, li abbiamo recuperati dai veterinari, perché poi qua sono tutti che si scandalizzano. Non abbiamo sottratto dalle cure gli animali, che sia chiaro, però tutto quello che era in più abbiamo comunque recuperato. E questo è fondamentale dirlo, perché poi fare sempre la cronaca della partita, dopo averla vista tutta, è troppo semplice. Noi eravamo e siamo in prima linea. Senta, nel libro, quando ci si trova nei momenti di difficoltà, come avviene sempre nella vita, si fa riferimento a quello che è il proprio bagaglio culturale. E io quella storia della sua famiglia la voglio raccontare, anche perché è una storia che coinvolge tanti di noi. È una storia che parte da un nonno, Enrico, che combatte la Grande Guerra, che era la Prima Guerra Mondiale, e le racconta di quando nelle trincee si alzava il braccio. Che nasce in Brasile, mio nonno. Ah, perché è di famiglia di emigranti? E poi fa l'emigrante anche lui, diventa emigrante anche lui, perché arriva a New York sotto... Sì, un po' come in Malavoglia, un po' sfigato, me lo lasci dire. Nel senso che nasce in Brasile, finisce in mezzo a un incendio, viene curato da bimbo con le foglie del banano, torna a casa, va in guerra, Prima Guerra Mondiale, lui era dal 1896, quindi a 18 anni va in guerra. Prende, finisce la guerra, mette su famiglia, nel 29 sostituisce un fratello perché viene scartato la visita medica, dove va? Nel 29 a New York. Cioè l'anno della Grande Depressione, per capirci. E però ne viene fuori, insomma, qualche paranca la fa, viene a casa, fa acquisti, fa investimenti, ma è la storia, poi vede la Seconda Guerra Mondiale, è morto a 100 anni, lucidissimo, quindi è stato in grado di raccontare... Non ha fatto in tempo a vederla ministro, però. No, non ha fatto in tempo, lui che era un contadino, io e i genitori che non sono agricoltori, però lui era un contadino e non ha fatto tempo a vedermi ministro. Senta, ma che cosa le ha trasmesso di quello che, della vita sicuramente imparagonabile alle vite che viviamo noi, no? Perché appunto stavo raccontando Prima Guerra Mondiale, nel libro c'è scritto, lui diceva, si alzava il braccio per dire meglio feriti, piuttosto che morti, no? Alzavi il braccio dalle trincee così venivi colpito, quindi potevi sperare di andare a casa. Qual è l'insegnamento più importante che le ha trasmesso? Beh, la determinazione, la forza di volontà, l'umanità e il rispetto per le persone, perché poi mio nonno, cioè, raccontava anche di questo, no? Ci raccontava purtroppo anche di quello che è stata la Prima Guerra Mondiale di questi ragazzi che erano mandati al massacro. Poi, non so, Beppe Fenoglio ha fatto un libro, mi sembra si chiamasse Plotone di esecuzione. Se non sparavano a nemico, qualcuno lo sparava a loro, cioè, nel senso, dalle fila degli amici. E poi aveva i suoi genitori, famiglie numerosissime, papà sei figli, mamma undici figli, c'è quest'aneddoto che la carne la mangia per la prima volta quando ha 20 anni. Sì, mia madre, sì. Sì, sì, questo è un racconto di mia madre. Che, fra l'altro, mia mamma, io ho dei sei zii, che non sono zii, sono cugini, perché mia nonna ha poi allevato i figli di sua sorella, che è morta, penso di parto, forse è morta. E le hanno trasmesso una visione allegra della vita o una visione, diciamo, comunque impegnativa, pesante? Assolutamente, no, no, assolutamente allegra. E soprattutto, cioè, noi siamo sempre stati un grande clan, adesso ovviamente si è sottigliato, perché poi le vicende della vita hanno portato molti di miei cugini a emigrare, a far fortuna da altre parti, però, insomma, siamo sempre stati molto felici come bimbi, assolutamente sì. E abbiamo avuto un privilegio che è stato il rapporto con la natura. Per me è stato fondamentale. Anche con i topi? Però quelli forse... Ah sì, anche con i topi. Un po' con tutti gli animali, direi. Perché c'è il racconto che si inteneva che i topi si arrampicassero sulla sua culla. Va bene, ma insomma, la vita di un paese, come si chiama il suo paese, dove è nato? Il mio paese è Bibano. Bibano. Praticamente nel comunione. Bibano di... Godega. Di? Godega. Di Godega. Lei pensa in Veneto, giusto? Sì, sì, assolutamente sì. Cosa sta pensando in Veneto in questo momento? In Veneto, inglese, spagnolo, ma penso e vivo in Veneto, come si direbbe. Cosa sta pensando in Veneto in questo momento? Ma no, penso che lei faccia anche un ottimo servizio di informazione civica. E ne approfitto per ringraziarla perché forse lei non se lo ricordo, ma lei mi ha dato modo di avere un collegamento quando stavamo vivendo forse il momento più tragico della vicenda del Covid in Veneto. Quella a dicembre, se non ricordo, fine novembre. Io il Covid me lo ricordo tutto. Dell'anno scorso e il Veneto ha vissuto dei momenti terribili, anche perché il Covid ha degli scenari imprevedibili. Lo scrivo nel libro, nel libro scritto non è finita, siamo in pandemia. Senta, però dopo tutto quello che lei ha passato, le notti insonni, il timore di prendere decisioni sbagliate, ovviamente anche la capacità di essere usciti meglio di altre zone d'Italia dalla pandemia, perché tutti nella prima ondata, ricordiamolo, hanno diciamo sottoscritto il modello Veneto, la sanità territoriale, tant'è che lei è stato rieletto con un voto altissimo, 76,8 se non sbaglio, quindi insomma sicuramente molto molto stimato. Dopo tutto quello che lei ha passato, cosa pensa quando sente degli autorevoli esponenti anche del suo partito scrivere cose tipo il vaccino non limita il contagio, anzi nei paesi più vaccinati i contagi sembrano essere più elevati? No, guardi, scientificamente dobbiamo stare attenti... Ma nel suo partito lo scrivono, però io la domanda gliela devo fare, cosa pensa? Intanto il mio partito è un partito grandissimo, non facciamo le riunioni nelle cabine telefoniche quindi capita sempre che qualcuno... È un partito plurale come si dice in questi casi. Abbiamo estrazioni sociali, culturali, ideologiche, territoriali diverse ed è giusto che comunque siano accolte le idee. Però una frase del genere, quando lei la legge, cosa pensa? Ma penso che oggi rischiamo l'effetto paradosso da un punto di vista comunicativo, aumentando sempre di più la quota di vaccinati, nella mia regione sono solo il 15% non vaccinati, è inevitabile che si noti il numero, il grande numero dei vaccinati contagiati... Ma a lei non le viene la voglia di alzare il telefono e dire ma cosa stai scrivendo? Guardi, noi siamo in trincea e quando sei in trincea devi guardare al nemico, non hai tempo di girarti. Però c'hai anche il nemico interno, il fuoco amico. Io direi che non sono nemici, dopodiché noi siamo un po' addetti ai lavori. Qualcuno avrebbe detto compagni che sbagliano, non lo so se fosse un altro partito. Però va anche compreso un aspetto che noi siamo degli addetti ai lavori e quindi viviamo il Covid all'interno. Probabilmente a volte capita che qualcuno faccia delle dichiarazioni che magari non hanno tanto poi... Quindi lei non si arrabbia? Ma no, non ha senso arrabbiarci, anche perché il vero Covid è quello che dovrebbe farci arrabbiare. Io mi preoccupo quando qualcuno dice che la mascherina non serve, quando qualcuno dice che il Covid non esiste. Questo è il vero guaio. Però nel suo partito c'è pure qualche manifestazione con i no green pass, l'ha fatta? Guardi, c'è stato molto dibattito all'inizio, questo è poco ma sicuro, però è pur vero che poi noi abbiamo scelto la via di un documento che conferma il green pass, conferma la validità della vaccinazione. Gli anticorpi monoclonali, il Veneto utilizza metà degli anticorpi d'Italia che vengono utilizzati in Veneto. Il nostro obiettivo è quello di curare e salvare la vita delle persone. Allora, va bene, adesso le faccio vedere un suo amico invece, così le strappa un sorriso, che si chiama, un amico, non so a quanto siate amici, però noi abbiamo un Veneto illustre e dice delle cose bellissime di lei. Red Canzian. Ah, Red. Ciao Serena, buon pomeriggio, buon pomeriggio Presidente. Ciao Luca. Noi siamo amici da tantissimi anni e fin dai tempi in cui eri il Presidente della provincia di Treviso e mi chiamasti a sostenere una tua iniziativa importantissima che suggeriva ai ragazzi di utilizzare il casco per andare in motorino. Poi è diventata una legge, ma tu eri già avanti allora. E poi volevo farti gli auguri per questo tuo nuovo libro, che leggerò, farti gli auguri esattamente come tu li hai fatti a me per il mio Casanova Opera Pop. Di te mi è sempre piaciuto il modo di anteporre i bisogni della gente alla politica e ti devo solo che ringraziare e fare i complimenti per come hai gestito il tempo difficile e doloroso della pandemia, quando era difficile sapere da che parte andare, e tu con ore e ore di dirette televisive, con l'aiuto di medici e i tuoi collaboratori, hai sempre dato una visione precisa e quotidiana di quello che stava succedendo. Che dire, speriamo di ritornare presto alla vita e io ti auguro tutto il meglio. Ciao Presidente. Grande Red Canziano, il nostro grande amico, grazie di questo messaggio. C'è una cosa che mi ha colpito nel suo racconto, dice a un certo punto, racconta che quando ha sei anni entra nell'officina di papà, si mette la prima tuta e comincia a collaborare nell'officina meccanica. Che cosa le è rimasto di questa capacità di appunto saper leggere i motori, in qualche modo, trovare che per noi donne è una roba proprio, manco il finnico? Ma direi che è stata una scuola di vita. Perché? Considere che io ho sempre lavorato tutte le estate, fin da bimbo perché funzionava così, poi non era che lavoravamo, facevamo i lavori forzati noi bambini, però tutti eravamo coinvolti nelle attività di famiglia. Ho fatto questa attività fino ai 18 anni perché poi con l'università ho fatto tutt'altro. Ma è stata una scuola di vita, mi ha permesso di conoscere un sacco di persone perché comunque l'officina è una bottega, no? Perché era un ragazzo, lei era anche un ragazzino timido, no? Sì, anche per quello. E poi io mi sono iscritto a veterinaria e le dirò che l'auto ha un po' un principio simile, no? L'auto è un paziente che non parla, ha dei guai e quindi tu devi iniziare a ritroso, ricostruire tutta la catena dei guai. Per me è stata assolutamente una bella esperienza. E con la politica mi hai fatto lo stesso? Parti dal sintomo per arrivare alla causa? Con la politica in generale, con la Lega o con l'Italia? Ma le dirò che io ho sempre fatto l'amministratore, cioè non ho mai fatto, diciamo, politica pura, no? E mi diverte l'impegno di affrontare i problemi e risolverli, sono un problem solving, definiamolo così, no? E la Lega non ha? La Lega ha problemi che lei vorrebbe risolvere oppure non ne ha nessuno? Ma guardi, la Lega è un partito, è un movimento, come diciamo noi, che ha assolutamente una storia solida, ha radici profonde. La Lega l'unica sfida che ha è la sfida identitaria, che è quella di portare avanti le sfide originarie, no? Che sono quelle del federalismo, che sono quelle di pensare al popolo, che sono quelle poi anche delle sfide della modernità, molto spesso, no? Però direi che noi, insomma, abbiamo un bel futuro davanti. Senta, a proposito di autonomia, perché poi lei arriva appunto dalla pandemia all'autonomia, l'ha ricordato in apertura di intervista, però c'è una cosa che voglio dirle. Lei nel libro rimarca sempre questo aspetto della sua regione, molto importante e molto bello, è molto vero, cioè il Veneto è una regione solidale, anche perché noi oggi ricordiamo, oggi sappiamo che il Veneto è una delle regioni più ricche d'Italia, ma in passato, anche recente, non era così. Sua mamma, anche in office, la domestica da ragazzina, perché non era una regione ricca, lo è diventata riboccandosi le maniche e lavorando, è diventata appunto la regione con tantissime piccole aziende. Ecco, il valore della solidarietà, come si concilia con quello dell'autonomia? L'autonomia non è tenere gli introiti per sé e quindi non aiutare gli altri? No, mi perdoniamo, questa è una sintesi troppo estrema. Eh ma io gliela faccio così lei me la confuta. Se lei l'avesse fatta questa domanda a Einaudi nel 1948... Eh vabbè, poi non ambisco a tanto. No, vabbè, sarebbe accaduto, ma lei è molto, 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 molto più giovane, quindi... De Einaudi sì, anche perché è bello che è morto. Allora, nel 1948 se l'avesse chiesto a De Einaudi, Einaudi avrebbe detto, no, noi abbiamo fatto una Costituzione, la nostra carta costituzionale che è autenticamente federalista, cioè loro disegnarono con la Costituzione un paese federalista, il problema è stata la gestione centralista, quindi il tema qual è? L'autonomia è sinonimo di responsabilità, non di sottrazione di fondi a qualcuno che ha di meno, non è la secessione dei ricchi, non è la mancanza di solidarietà, assolutamente, anche perché a noi non converrebbe oltretutto, e c'è la sussidiarietà, ma è la volontà di dar compimento a quello che prevedevano i padri della Costituzione, di avere un paese federalista, nelle stesse ore la Germania scriveva la sua Costituzione e oggi noi conosciamo una Germania federalista, noi siamo ancora un paese centralista che è un po' paragonabile al Medioevo dal punto di vista istituzionale, il rinascimento è l'autonomia, il federalismo, tant'è vero che molti paesi ce l'hanno dimostrato con la loro storia, pensi agli Stati Uniti, pensi alla Gran Bretagna, alla Germania, molti paesi che comunque hanno adottato un modello federalista. L'ha sentito il ministro tedesco che dice che i tedeschi saranno o guariti, o vaccinati, o morti? L'avrebbe detto una frase del genere? Ma guardi, lui ha fatto un'estrema sintesi, qualcuno potrebbe dire, siccome i pessimisti non fanno mai fortuna, avrebbe detto guariti, morti, vaccinati o che passano in denni questa tragedia. Ha fatto un'estrema sintesi dura, brutta e non spetta a me giustificarlo anche perché non conosco il contesto, ma conosco il contesto epidemiologico e sanitario, è tragico in Germania in questo momento. Immagino che abbia voluto forzare con questa dichiarazione per stimolare qualcuno ad andare a vaccinarsi, visto e considerato che loro hanno una percentuale di vaccinazione che è troppo bassa. Durante la pandemia tanti bambini le hanno mandato dei disegni, so che lei ci tiene molto e ci teniamo molto anche noi perché poi sono state delle vittime anche della pandemia perché con le scuole chiuse la paura di uscire non è stato bello, quindi li vediamo insieme. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andrà tutto bene. Sono stati eccezionali perché, fatto salvo il danno sanitario su alcuni cittadini, chi ha subito di più questa pandemia sono stati i bambini e gli adolescenti. Ma lei ci tiene tanto a queste, lei non ha figli, questi bimbi sono un po' una sua comunità. Sono la mia comunità, le dirò che poi si sono rivelati una vera comunità, lo dicono al libro anche per il legame, il cordone umbilicale che hanno voluto mantenere vivo con le istituzioni. Tanto è vero che poi questo fenomeno dei disegni si è tradotto in 1300 disegni, oltre a 300 lettere e opere e a questo punto ho organizzato una mostra itinerante in Veneto che è molto frequentata, fa i sette capologhi del Veneto e alla fine ci sarà, spero, una grande festa per loro a Vaux, il paese da dove è nato tutto, e dirò che c'è una mostra importante per il Veneto. Fra l'altro fa tutti i salotti più belli, i salotti buoni di ogni capoluogo. Che sono belli, diciamolo. Cos'è rimasto di quel bambino timido che a sei anni veniva bullizzato a scuola? Beh, che è cresciuto, a me sembra evidente. No, vabbè, certo. A me sembra evidente. Come ho scritto nel libro, non è stato per me un trauma che mi porto dietro, che abita molti bambini. Però qualcosa resta, che le dicevano? Ma no, poi viene bullizzato molto spesso il diverso. Io ero pieno di lentiggini, quindi faccio un po' lei. Quindi magari venivo vissuto un po' come il diverso. Allora funzionava così, poi i bambini sono un po' crudeli tra di loro, c'è la crudeltà. Però anche quello è stato un momento di crescita. E la timidezza come l'ha superata? Beh, studiando. Studiando, nel senso che i timidi hanno il primo confronto con questo loro stato dell'animo, ce l'hanno nel momento in cui magari danno un esame all'università, perché è già una grande sfida. Io fra l'altro mi sono iscritto in una facoltà che aveva tanti esami, neanche a farlo apposta, per cui mi sono esercitato. Quindi ogni esame era una prova? Beh sì, lo era da un punto di vista non solo caratteriale, ma anche formativo, visto considerato che gli esami sono cosa seria. E allora ci si iscriveva all'università e ci si laureava solo dopo aver fatto i cinque anni. Senta, racconta anche nel libro il sentimento quasi di disagio quando viene chiamato a fare il ministro, però poi aggiunge, ministro dell'agricoltura, governo Berlusconi. L'ha detto tutto il libro? Eh beh, noi studiamo, mica solo lei studia. Qua siamo tutto un team, Stefania Cioce, ci sto io, io ho pure sottolineato. Però dice che quella è stata, aggiunge però anche che è stata l'esperienza più formativa della sua carriera. Esclude che si possa ripetere un domani che lei rivesta di nuovo un ruolo nazionale? Pensa che potrebbe ricapitare? Guardi, lei pone abilmente la domanda, no? No. Assolutamente sì. Però io le devo dire che se la domanda fosse, cioè lei punta a fare qualcosa a livello nazionale, dico di no. Nel senso che la risposta è questa, e cioè io ho questo impegno in Veneto e do un obiettivo, anzi due obiettivi. Uscire da questa crisi del Covid, che è una crisi che a noi pesa moltissimo, parlo a livello sanitario, lascio perdere gli altri aspetti economici e sociali e le ricadute che ha. E poi il grande tema dell'autonomia. Quindi in Veneto noi stiamo lavorando su questi due fronti, che sono per noi fronti imprescindibili. Eh ma prima o poi lei è giovane, del 68, cioè una volta risolto quello? Beh ma io sono fatalista, ad esempio non ho più il cavallo, mi è morto il cavallo nel novembre del 2019, noi ci siamo beccati, dopo la scomparsa del mio cavallo, che aveva 32 anni, quindi per noi era, cioè vabbè, lasciamo perdere, e abbiamo avuto l'acqua alta a Venezia e poi è arrivato il Covid. Me la ricordo, quindi non è stato un bel periodo. Dice per ora pensiamo... No, le dicevo, quindi probabilmente in futuro forse la sfida più grande è quella di comprarmi un altro cavallo, visto che con il Covid ho un po' sospeso questo intendimento. Senta, noi sappiamo tutti che nella Lega, come in tutti i partiti ampi, c'è un dibattito. Lei dice che la Lega è come la mamma, non si discute, però distinto fra le posizioni più centriste e quelle più sovraniste, lei dove si colloca? Beh, sembra la storia della mamma, cioè vuoi più bene la mamma o il papà? Eh, però qua sono due le mamme almeno. No, non ci sono due le mamme, ce ne sono sempre una. Ho capito, però diciamo, è normale che in un partito ci sia un dibattito, ma l'abbiamo visto in tutti i grandi partiti e quindi questo non è un'accusa a nessuno, però lei distinto, va più verso i centristi o verso i sovranisti? Verso la parte più centrista o più sovranista? Allora guardi, scelgo la terza via degli autonomisti. Quindi lei rappresenta solo se stesso? No, ma no, se stesso e i suoi... Assolutamente no, nel senso che io penso che il dibattito ci stia in un partito come il nostro che è assolutamente poderoso. Dopodiché la sintesi ci porta a prendere atto che siamo un partito di governo, che la Lega sia in maggioranza l'opposizione. Oggi è un partito di governo perché governa le principali regioni italiane, ha 800 sindaci, per cui noi non possiamo pensare di essere un partito d'opposizione, questo è poco ma sicuro. e quando sente la parola sovranista cosa pensa di stinto? Io dico sempre una cosa, che cos'è il sovranismo? Perché poi tutti ne parlano, ma il sovranismo che cos'è? Essere padroni a casa propria, essere difendere i propri cittadini, tutelare... Cioè questo è scritto anche in Costituzione, non è che non è scritto nella Costituzione. Probabilmente sono l'estremizzazione del sovranismo, che è quello magari di non essere assolutamente disponibili ad aiutare chi sta peggio di noi, ma a me non risulta che in Lega questo sia un obiettivo. Ecco, una domanda, ad esempio lei che ha avuto una storia di emigrazione così densa, così forte, che porta nel cuore, perché l'ha scritto nel libro, quando vede i barconi delle persone arrivare nel nostro paese, distinto, cosa pensa? Li comprende o la spaventano? Guardi, io penso che, le dico subito, che chi scappa dalla morte della fame va aiutato, punto, senza se e senza ma. Dopodiché noi come paese paghiamo uno scotto, siamo letteralmente dimenticati dall'Europa, perché l'aiuto non può essere solo nazionale, cioè oggi l'Europa vive Lampedusa come il confine d'Italia, non come il confine d'Europa. Dall'altro paghiamo anche un altro scotto, che è quello della primavera araba, dove molti cittadini, penso tunisini, o del paese del Maghreb, sono giunti in Italia e oggettivamente in condizioni non di fuga dalla fame e dalla lotta, ma come migranti economici. Questo non ha aiutato, questo processo. Dopodiché la mia regione, ma anche l'Italia, nella mia regione ci sono 600.000 persone che si sono integrate, fanno parte della nostra comunità. Quando uno rispetta le leggi, si comporta bene, non c'è nulla da dire. Se poi uno viene qui a delinquere, è un'altra roba. Senta, l'ultima domanda la riprendo dall'intervista che lei ha fatto a Candida Morvillo sul Corriere della Serie riguarda la Presidenza della Repubblica. Non se ne parla, si va a rivolgere a gennaio, eccetera. Ma lei fa sempre tanta politica così, di solito. Adesso mi sto sfogando con lei. Mi ha detto vai tranquillo, una tranquilla. Sì, ma io ci siamo visti mille volte. Poi lei è bravissima, deve stare tranquillo con noi. No, siccome lei dice nessuno valuta che Draghi in votazione apre due scenari. Uno è che venga eletto e allora si va alla sua domanda e decide il Parlamento. Ma se non viene eletto che succede? Se la sua maggioranza non lo vota si apre un cortocircuito. Beh sì, a me sembra ovvio. Magari non se ne parla di questo. Però il Presidente Draghi nel momento in cui accetta l'investitura, quindi accetta di candidarsi, deve essere eletto cioè ha solo una possibilità. Se questo non accadesse verrebbe letta come un'eventuale non elezione oppure magari un ricorso a più elezioni per arrivare a un quorum potrebbe essere letta come una sfiducia da parte della sua maggioranza visto e considerato che la maggioranza che oggi sostiene questo governo è anche la maggioranza che è in grado di leggere un Presidente della Repubblica. Vero. Presidente, abbiamo finito il nostro tempo, ragioniamoci sopra dalla pandemia e l'autonomia ve lo consiglio perché è un libro molto vero e l'ultima domanda quindi se la faccio personale il suo desiderio oltre che di riacquistare un cavallo il che vorrà dire che diciamo le cose si sono sistemate qual è adesso? Personale? Beh, dormire un po' di più? Beh, questo sì. Guardi, noi abbiamo un bulldog in casa si chiama Caterina bulldog inglese e c'è devo dire che l'è in video perché dorme tanto. E quando non dorme che fa il Presidente? che fanno? Beh, leggo penso i fatti miei. Che pensieri? Positivi, negativi, angosciosi, Questo è un interrogatorio. Grazie, grazie, non è un interrogatorio. Vabbè, sua moglie è contenta di vederla in sonne? Assolutamente sì. Numero uno, ci vediamo domani alle 14. Grazie.